Migliaia di bambini in Benin si ammalano perché costretti a bere l'acqua delle pozzanghere o di pozzi contaminati. Vogliamo cambiare le cose insieme a voi. Quest'anno, 6.000 scolari devono poter bere acqua potabile. Aiutateci a costruire pozzi, condutture e pompe idriche. Bastano 30 franchi per garantire a un allievo accesso all'acqua potabile. Insieme ai vostri amici potete cambiare il futuro di un'intera classe scolastica. È semplicissimo. Con pochi clic potete lanciare una colletta invitando amici e familiari a partecipare. Il vostro desiderio può salvare la vita a molti bambini. Offrite a un bambino la possibilità di avere una vita sana. Solo così potrà andare a scuola e quindi avere un futuro. Lanciate la vostra colletta e fatevi fare un regalo solidale. Acqua per chi ne ha bisogno. Alla prossima Alla prossima